Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema di limoncello. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più due giorni per la macerazione. Gli ingredienti che ci serviranno momentaneamente sono alcol per alimenti e la scorza di limoni non trattati. Diamo il via la ricetta. Mettiamo all'interno di una boccia la scorza di limone, naturalmente senza la parte bianca, e l'alcol per alimenti. Chiudere con un tappo, mescolare e riporre in un luogo al buio, mescolando di tanto in tanto, per almeno due giorni. Trascorso il tempo andiamo a filtrare l'alcol dalle scorze di limone. Gli ingredienti che ci serviranno adesso sono latte intero, zucchero e vanillina. Mettiamo all'interno del boccale, il latte intero, lo zucchero e la vanillina e azioniamo il bimbi per quindici minuti, 100 gradi, velocità 2. Lasciamo raffreddare nel boccale. Non appena freddo, versare l'alcol che abbiamo filtrato ed amalgamare per un minuto a velocità 4. La crema di limoncello è pronta, imbottigliare e conservare in frigo. Crema di limoncello. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!